Questa attenzione per gli studenti del mondo del volontariato, ma anche di quelle che sono le aziende che si interessano di ambiente, è importante. Possiamo guardare al futuro con un po' più di speranza? Dobbiamo guardare al futuro con speranza. I presupposti ci sono tutti e forse c'è anche l'obbligo morale di guardare al futuro con speranza. Restando nel tema, abbiamo partecipato oggi a questa giornata demo dimostrativa come ente strumentale della Regione Calabria che si occupa di ambiente marino, portando il nostro ROV. ROV è acronimo di Remoted Operated Vehicle, un veicolo a comando remoto. In sostanza si tratta di un robot sottomarino filoguidato che viene gestito con un joystick dall'imbarcazione e ha la funzione di acquisire immagini ad alta definizione di tutto ciò che passa davanti all'obiettivo della telecamera. Lo scopo d'uso per l'Agenzia è quello di rinvenire biocenosi di pregio, ovvero quelle forme vegetali e animali che popolano i fondali della Regione Calabria e che costituiscono quella pagina positiva della nostra Regione, ovvero quegli elementi di biodiversità da studiare e quindi tutelare e valorizzare. Un caro mio amico, un ricercatore, una volta mi ha detto che nei tubi dell'Eni dove passa il metano c'è una flora e una fauna nuova che nessuno conosce perché chiaramente va fatto uno studio e va guardato questa profondità marina. Ci avete mai pensato? Ci abbiamo pensato però presi dalla molteplicità di attività istituzionali non ci è stato mai chiesto di entrare nello specifico. Una cosa è certa e porto un esempio concreto. Le piattaforme estrative antistanti crotone, noi monitoriamo il possibile inquinamento da contaminanti posizionando dei mitili delle cozze che poi preleviamo dopo otto settimane e analizziamo. Questo protocollo tecnicamente si chiama Muscle Watch, è un protocollo ministeriale codificato e noi già da cinque anni eseguiamo questi studi sulle piattaforme estrattive. Per rispondere più in particolare alla domanda, ma tutto ciò che è tubazione in mare, qualsiasi corpo estraneo che giace su un fondale marino è soggetto alla conquista da parte di specie pioniere, il cosiddetto fouling tecnicamente si chiama e quindi questo tubo prende vita attraverso delle concrezioni, delle forme animali e vegetali che si insediano secondo una successione ecologica ben precisa. Testimonianza ne sono i rilitti affondati. Quindi qualsiasi substrato può essere oggetto di valutazione anche dal punto di vista delle biocenosi che si sviluppano e sarebbe di sicuramente interesse perché abbiamo tutta la strumentazione occorrente per effettuare questi studi.